Non ci sta a finire sempre e comunque sul banco degli imputati il sindaco di Nociara Inferiore. Lo ha voluto ribadire anche a proposito delle spese legate al contenzioso. Durante l'ultima seduta di Question Time ha snocciolato i numeri del risparmio operato dalla sua amministrazione. Abbiamo ridotto la spesa legale in una maniera enorme. L'ultimo anno di amministrazione di cui il consigliere Mauriello faceva parte ha prodotto la bellezza di 70 mila euro e passa 75 mila circa euro di contenzioso. La spesa negli anni successivi durante il commissariamento per il contenzioso è aumentata fino a 168 mila euro. Diciamo che il contenzioso nasce da tutte le vicende che ci sono piovute addosso grazie alla gestione amministrativa di cui il dottor Mauriello faceva parte. Noi nella nostra annualità l'abbiamo ridotta non solo rispetto ai 168 mila del commissario prefettizio ma abbiamo addirittura ridotto la spesa legale anche rispetto all'ultimo anno di amministrazione alla bellezza di 55 mila, 51 mila euro. L'abbiamo fatta in maniera assolutamente pubblica e trasparente seguendo un criterio di scelta all'interno degli elenchi nei quali ci si poteva pubblicamente inserire e prenotare.